buon buongiorno buon pomeriggio eppure buon cannelloni ricotta e spinaci presi alla deco ormai il mio supermercato di fiducia preferito vediamo come sono oggi è domenica è domenica butto fuori sto video stasera o domani non lo so però è domenica buon appetito a chi mangia assieme a me vediamo se sono buoni e le lasagne erano abbastanza buone c'erano questi in offerta fanno mille gradi dai preferisco le lasagne vi dico la verità però le lasagne non erano in offerta e costavano 4 euro e passa questi qua invece erano in offerta e costavano 2 euro e 60 credo perciò ho detto fammi prendere questi va allora vorrei essere non voglio essere stressante perché sapete che ho detto non voglio più fardissimo non me ne frega più di niente della verità come vedete penso che tutti possano penso che tutti possano vedere che mi sto facendo i super cavaliacci miei non sto parlando di nessuno ok i messaggi sotto che vengono a rompere le scatole a far apposta a cercare di stigarmi banno cancello proprio però permettetemi di dire due tre cose più che altro per uno sfogo personale è mica non perché mi interessi più di tanto ma più che altro può uno sfogo personale che dico a voi no cioè io mi chiedono una persona no come meno cioè ci sta facendo i cavoli proprio non sto dando fastidio a nessuno mi sto facendo i miei contenuti che abbia poche visual che ne abbia tante non importa però io mi chiedo una roba non so sembra quasi no che quelli che ce l'hanno con me no siano lì proprio che non vedono l'ora o di farmi sbottare o di far sì che io ricomincio a far dissina a parlare di qualcun altro perché non lo so forse gli manca questo forse perché ultimamente di dissi non lo so se ne sta poco non lo so e loro vivono di questo perché vieter si sa che vivono di dissino vivono nelle live dove ci sia zanna ok però io sono incuriosita molto da sta roba qua tipo esperimento sociale nel capire il perché avere il bisogno di venire a distigare le persone con le cose più stupide capito tipo il mangiare io io quello che mi chiedo è questo no se io non ti piaccio ma perché mi guardi per poi giudicarmi c'è il mangiare e venire a dire mangi sempre roba precotta confezionata piena di piena di 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 non so che dicono non me lo ricordo e allora cioè ma e allora cioè se io mangiassi anche tutti i giorni roba precotta preconfezionata no ma il problema no ma io mi chiedo questo il problema dove sta ma la mangiate voi no la mangio io cioè mangio gli gnocchi eh con due patate un po di farina un uovo te li fai gnocchi senza comprarli pieni di 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 questo pieni di quell'altro pieni di conservanti bla 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 compro le lasagne già fatte e le lasagne te la potresti fare quanto ci vuole fare il ragù bla 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 e che cazzo veramente l'altro giorno ho fatto quella lasagna la bianca con la besciamella quella perché ho osato dire fatta è fatta da me sotto è fatta da te non è cucinare questo questo è assemblare le cose perché tu non è che l'hai cucinata tu hai assemblato le cose ma veramente sul cane anche sempre da ridire è perché non gli do da mangiare perché gliene do troppo e non dovresti fare questo non dovresti fare quell'altro cioè io veramente io come vedete è inutile che poi venite a scrivermi in privato no che poi non avete neanche il coraggio di di metterci la faccia ok perché venite in privato con un fake appena fatto di instagram ad offendermi come avete fatto stamattina come avete fatto ieri ok c'è ma il significato di fare questo qual è a me sta anche bene per carità perché guardate io ci faccio un video ne parlo e ci guadagno pure no ma voi cosa ne guadagnate oltre che non vi ho dato la soddisfazione di rispondervi vi ho bloccati subito cosa ne avete guadagnato perché stamattina e ieri no all'altro ieri scusate stamattina mi sono ritrovata due messaggi io credo dalla stessa persona perché più o meno il modo di scrivere era uguale con fake di instagram appena fatti con zero proprio un iscritto e zero seguiti capito dove sono venuti a scrivermi eh tanto finirai sotto i ponti un'altra volta a parte che sotto i ponti non ci sono mai finita fortunatamente tanto finirai sotto i ponti un'altra volta chissà da quanti mesi non stai pagando l'affitto ti cacceranno anche da lì dopo cos'è che mi ha scritto che abito in un tugurio senza mobili che so grassa vabbè quello lascia il tempo che trova perché mi viene da ridere che sono un bisonte un bisonte che mio figlio non è vero che lavora che vivo di donazioni c'è tutta una serie di cose capito io sinceramente non ho risposto né a quello che mi è arrivato l'altro ieri né a quello che mi è arrivato stamattina ho bloccato cancellato e basta io ripeto chi tu sia che non ci metti nemmeno la faccia ecco no io ti ringrazio anche perché come vedi guarda ci ho fatto un video ci guadagno pure sopra la faccia tua capito perciò se vuoi continuare a scrivermi mi fai anche un favore ma quello quello che mi chiedo io no è la cattiveria perché cioè perché essere felici se una persona vive rimane senza casa se una persona persona se una persona vive sotto ai ponti se una persona non ha soldi perché esserne felici quello è che io mi chiedo capito il perché godere di questa cosa nel dire tanto finirai sotto ai ponti mesi che non paghi l'affitto mesi cazzo è da marzo che abito qua cioè sono mesi che abito qua mesi che non pago l'affitto bah vabbè ringraziando Dio anche se non ci credo addio l'affitto l'ho sempre pagato anche in anticipo di fatto anche questo mese lo pago sempre prima mi dispiace per voi i mobili sì è vero è vero non ho i mobili ma appunto per quello non ce li ho forse perché preferisco prima pagare le priorità che sono le bollette l'affitto e tutto quello che concerne la casa giusto poi quando sarà che ci sarà qualcosa di più allora comprerò anche il resto però prima la priorità è parare l'affitto parare le bollette veterinario medicine e tutto quello che concerne sta roba qua che abbiamo tutti non solo io perché tutti quanti abbiamo ste robe qua da pagare no? un tetto sulla testa ce l'ho un letto dove dormire ce l'ho una cucina dove mangiare ce l'ho un gabinetto ce l'ho non è che perché manca un armadio chi se ne frega è vero però quello che dà fastidio tra virgolette fastidio è proprio la cattiveria che non capisco è proprio la cattiveria perché il tuo figlio non lavora e come lo pago l'affitto se il mio figlio non lavora vado a farle lemosina fuori in strada boh scusate ero andata a prendere l'acqua non la capisco proprio vi giuro la cattiveria delle persone tanta cattiveria che hanno non la capisco nel godere nel godere degli insuccessi altrui nel godere nel male degli altri io sono sicura che sono persone queste qua infelici che non sono felici nella propria vita e che hanno bisogno di screditare di screditare gli altri per sentirsi qualcuno loro perché sicuramente una persona una persona se è tranquilla con se stessa non dico felice però se una persona è tranquilla con se stessa non ha bisogno di fare questo capito cioè la persona se è tranquilla con se stessa si fa la propria vita non ha bisogno di di andare a di queste porcate ma proprio di perderci pure il tempo nel stare a farsi fake nel venire a scrivermi a video contenti loro per carità contenti tutti però rimango proprio sbigottita su sta roba qua perché dico vabbè prima davo la colpa prima davo la colpa magari perché facevo dissing tra virgolette dissing perché sapete che il mio vero e proprio dissing non l'hai mai stato perché non ci ho mai messo con la cattiveria proprio cioè prima magari era un po' da dire vabbè si fa dissing si è dentro a questo a questo vortice dove si parla di uno dell'altro però ci perciò ci sta che ci sia queste cose qua però adesso quando ormai sono mesi che non sto più facendo niente ma mesi perché questa volta proprio l'ho detto e lo sto facendo ed ho intenzione di continuare a farlo anche perché vi giuro che io sto tanto meglio così capito cioè tanti penseranno che non è vero ma io veramente non sto seguendo più nessuno su youtube nessuno cioè mi sono disiscritta a tutti i canali che seguivo prima di sto vortice di gente malata che c'è dentro capito di di sta cattiveria di sta roba mi sono proprio disiscritta non mi interessa più niente cioè non seguo più nessuno io vi giuro sto tanto meglio così perché quando arrivi ad entrare in questo vortice di cose malate perché veramente so cose malate è difficile poi uscirne no perché ti viene la curiosità ad ascoltare uno l'altro ti viene a rispondere ti viene a dire e io me ne so tirata fuori sto tanto meglio guardate che voi non avete idea io mi sono data su tiktok faccio le mie live la e sto tanto meglio capito sto tanto meglio senza parlare di uno dell'altro me ne frega proprio niente di cosa fa uno di quello infatti adesso mi ritrovo tante volte come avevo già detto a dire ma veramente io cioè stavo lì a sindacare su cosa fa questa su cosa fa quell'altro su cosa dice quello adesso mi sembra tipo fantascientifico perché dico ma veramente ero così ma veramente facevo questo cioè mi trovo veramente a dire ma veramente ero proprio stupida perché adesso mi sembra fantascienza capito perché tornassi indietro sicuramente non farei più niente di sta roba qua so che non porta non porta visual non porta soldi tanti come prima ma non me ne frega perché tanti di fatti questa qua che mi ha scritto stamattina e l'altro ieri mi ha scritto tanto tornare fardissimi perché tanto le viso stanno calando non me ne frega niente cioè sinceramente non me ne frega niente so calato e vabbè pazienza pochi ma buoni ma non torno indietro a parlare di uno l'altro per fare di più perché ci tengo di più alla mia salute mentale ci tengo più più alla mia salute fisica e mentale fisica vabbè direte fisica se ci tenessi vabbè avete pure ragione però dicevo ci tengo di più alla mia tranquillità ecco a starmene tranquilla farmi le mie cose per tanti magari sono noiose magari per tanti non piacciono non importa a chi piace mi guarda a chi non piacciono non mi guarda non c'è nessun problema nessuno è obbligato a guardarmi se a uno non piace come mangio i rumori che faccio non piace se mangio roba confezionata non mi guarda ce ne sono migliaia di canali su youtube guardi qualcun altro non mi guardi ma nel senso cioè ma non capisco il perché venire dentro a scrivere mangi robe confezionate e allora cioè e allora cioè il problema tuo dove cazzo sta se mangio cose confezionate il problema tuo dove sta se non me le faccio io se a me sta bene così perché a te non deve stare bene cioè sono io che le mangio non sei te che le mangi capito perché venire a sindacare su tutto capito cioè anche sui cosi adesso sono venuti a sindacare sui vlog flash avevi da ridire su chiara che li faceva ma pure tu stai facendo e allora e allora quello e allora il problema dove sta non li guardare che cavolo li guardi a fare non li guardi è il problema risolto ma perché me lo vieni a scrivere sotto cioè e io ti blocco manco ti rispondo perché io l'ho avvisato io ho avvisato chiunque perché mi hanno scritto sotto a te fa comodo ti piace vincere è facile non rispondere cancellare chi ti dà contro sì e lo continuerò a fare e allora anche qua vi dico il canale è mio e ci faccio il cazzo che dico io capito se io non voglio più rotture di scatole sotto di persone che vengono a rompermi le palle e le cancello e le blocco il canale è mio e posso fare quello che voglio a casa tua io non vengo a comandare perché te devi venire a casa mia a comandare cioè se io voglio starmene in pace tranquilla non voglio rotture di palle nel dover rispondere a gente cretina e preferisco prendere cancellare bloccare il problema dove sta e continuerò a farlo perché non ho voglia più di perdere nemmeno un minuto a rispondere a certi personaggi perché poi non ci guadagno niente almeno ci faccio un video come adesso almeno ci guadagno capito ma star lì a perdere tempo a digitare ask no mi mangio un gelato piuttosto e perdo il tempo lì guarda piuttosto di perdere tempo a rispondere a certi personaggi no cancello blocco e basta io vi ho avvisato che non avete più terreno fertile nel mio canale perciò non perdete neanche tempo nel venire a offendere a dire le vostre cose perché tanto io non perdo più tempo a rispondere cancello blocco e basta capito cancello blocco e basta è tempo perso non ce la farete più a distigarmi a fare a dire a brigare no perché non mi interessa più io spero io spero che l'abbiate capita no spero scusate del pippone ma ogni tanto dai ci sta era uno sfogo mio personale nel dire le cose almeno ci guadagniamo sopra ste testa di cazzo dai almeno ci guadagniamo eh che cavolo dai ragazzi io vi abbraccio vi bacio un bacio formato famiglia vi do appuntamento alla prossima e basta ciao 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 ciao